e dicembre inizia così giornata bellissima di sole freddina ma col gran sasso innevato e io giro in edicola per diabolic con lo speciale sul film poi insomma lo andremo a vedere se non chiudono tutto e samuel stern l'angelo del focolare allora colazione con un tommaso che mangia la ragosta e io invece per si decide per la pizza di stasera ok stasera pizza per me che ce l'ho c'è ale c'è fede c'è giulia virginia c'è pure pietro c'è pure tommaso che non vi vuole salutare e c'è stefano non vi siete persi niente e poi ci sono io che mangio la pizza cazzo cazzo allora ma che ci fate con mandalorian ecco che cosa è da vedere assolutamente voi che dite ehi zietti guardate che mi mangio all'una e mezza di notte ma è una bomba di hamburger formaggio fritto bacon salsa eccetti tutto e di più fratelli allora ragazzi non potete sapere che cosa ho sotto mano sono dei disegni fighissimi che probabilmente diventeranno un progetto adesso vi faccio vedere dei dettagli allora dei dettagli perché il livello di dettaglio di queste opere è impressionevole non impressionante queste le fa edoardo che un giorno vi presenterò forse quasi circa chi può dirlo ma sono delle cose che vanno oltre la comprensione umana vedete cioè mi è anche impossibile riuscire a farvi comprendere il livello di dettaglio forse così ci riesco e poi c'è anche un'opera colorata molto molto bella ecco qui very nice very good very well finiamo col triangolo guardate che meraviglia bellissimo ok ecco a lei signorino federico sì da notare che federico che cosa ha preso quello più lungo fammi vedere fede lungo e faticcio vai godi adesso troia vai ecco mentre stefano invece sta parlando con michele che è tornato in italia però deve fare un po' di quarantain sono passato a trovare tommaso che ha un letto bellissimo con topolino eccolo michi e lui ha le bacchette ciao tommaso questa è quella di wadward la bacchetta di waldemort di sambuco no che possiamo fare con questa che cosa dice waldemort ah vada che d'avra questa è la bacchetta di eri giusto e devi dire aspetto patronum dai dillo tu dai t'assomiglia riporter vai vai aspetto patronum ciao tommy allora siamo venuti a trovare michele bar abbiamo fatto un super selfie vediamo un po con questa macchinetta sta per uscire la foto eccoci qua questo amica ti ricordi poi dove mi hai detto grazie sono sono carina a metà prete no mi ricordo kinder non è uscito bene kinder fa un freddo micidiale ragazzi e allora mi prendo ginkgo però senza k la k di diabolico è un ginseng freddo della madonna infatti nella steppa sconfinata a 40 sotto zero nella neve i cosacchi però dobbiamo camminare così guarda eh fallo vedere ok ma popop non si arrende dopo un po' scivolando sulla neve cade verso il fiume don forget me not alberi n'esporo n'esporo io non ho scritto niente però ho scritto nascondersi in un tubo con Giuliano per incontrare Licia alla rispondeva alla cose da fare in un giorno di pioggia ok qui è aria di festa io ho rispolverato fa un freddo il cane però ve lo ricordate a settembre stavo appunto questa piazza a mangiare i troccoli non ricordo cosa vediamo il presepe stavamo proprio qui con la porchetta seduti qua più o meno dove adesso al mio posto ci sarà il bambinello no già c'è già nato attenzione vabbè poi in anticipo parto anticipato che dici fa freddo? ma è che troppo metà ci sta freddo vede Stefano Paperino e Penumbra finale della seconda stagione di DuckTales abbiamo fatto i tramenzini come vi faccio vedere wow 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 amici sportivi dito agli a uno vai la laurea di Lorenzo come è andata? dillo benissimo benissimo dopo tanto penare hai preso? 110 è nulla il bacio te l'hanno dato accademico sì ok perfetto fammi un po' te lo do pure io aspetta ok quindi è la festa di Lorenzo quindi noi si divertiamo stasera dai fratelli fratelli stavamo pure cinghiale cazzo c'è pure Stefano ciao ciao a tutti c'è pure Paolo e Sara quindi stasera pure elegante camicia ma quando mai fratelli allora passeggiate domenicali guardate la neve fino a dove è scesa c'è Juice e perché purtroppo esce Mickey Mouse esce Mickey Mouse ok mi hanno fregato il nome Mickey lo sai? me l'ha fregato uno che su su cosa su Instagram si chiama Mickeypedia perché si chiama Mickey pure lui però gli ho detto che cazzo ma che vuoi fare? no ovviamente non può essere indicizzato perché se tu scrivi Mickeypedia ti rimanda a wikipedia però in questo momento voi state vedendo Mickeypedia e lui quello che ha fatto Night Out ok stasera unboxing del nuovo Trivial Pierce Tweet coca cola Federico Stefano e Giuseppe oggi 12 dicembre 2000 22 un anno dopo 21 stiamo acquistando i biglietti per l'ultimo tour dell'Itfiba ecco vedi ultimo poi si sciolgono ragazzi quindi è l'ultima volta che vedremo Piero e Kigo insieme ragazzi guardate qua che cosa abbiamo il biglietto no 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 c'è il covid Fiba Michè poi i miei lettori ti vedono finalmente dal vivo dopo cent'anni posso inquadrare pure tua moglie dai dai bar ciao ciao ok così almeno vedono anche dal vivo salamale nuovi Origins Masters vediamo un po' che è uscito Fede che dici che ci sta facciamo l'Antoxi eccolo sono cazzi amici citazione cioè Pantor citazione la puntate verrà ritrovare video mi si vede a 9 ottobre no no non dare troppi eh vabbè ottobre dai eccoli qua tutti i nuovi arrivi allora stanno montando la pista di pattinaggio annaffiando noi facciamo una passeggiata notturna è Nataliktia con questi tre bambini che sono Giuseppe Stefano e Federico adesso ve li faccio vedere perché vi faccio shum 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 eccoli scimi scimi dai dai non smettere mai wanna dance 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 ok a vedere Diabolic studio radiologico gata ah il tuo po' Diabolic quack dolic che vi dite del film molto bello una roba una roba una roba Miriam Leone ma su ma su questo salute ma su questo non c'era l'ultima ma comunque per il film avrete già ormai felini avete ormai detto anche la mia felini ci si vede salute e viva lunga vita Diabò e Gink e Altea giornate fantastiche e noi dove siamo al santuario perché oggi c'è Dodi Battaglia dei Pu si l'abbiamo fatto venire qui e farà un'esibizione un seminario un concerto quindi poi vedrete qui ci sta oltre Gianluca ok oggi cena con Dodi quello è anche molto di pizza dopo la musica a cena mangiare farò un mangiuffetto Wikipedia grazie e saluta ciao allora una scena che avete già visto è tornato di nuovo Tommaso ciao da Modena Tommaso da dove sei tornato? da Modena ok quindi già visto nella clip scorsa in realtà abbiamo finto di incontrarci adesso perché questa notte abbiamo dormito insieme lui il mio peluche giusto? diglielo è vero è vero si vergogna di dirlo è morbidissimo il nostro Harry Potter anche noi siamo di film natalizi è capito il nostro Godipater a Giovanni Edo Bar Michelino Alessandro Stefano e poi ci sono io che non mangio questa cosa qua sono fatto fare i gnocchi o meglio i gnocchi come si suolte i gnocchi sono affamini schifosi matematica matematica e religione parla di lavoro e la ridotta delle vacanze di Natale Marcozzi guarda qui Marcozzi c'è uno top c'è uno top ecco qua c'è pure Luca ma Luca era gay adesso e Moira Orfei Natale e per Natale il nuovo numero sesto della finestra sul Gran Sassi il giornale dove scrivo anch'io infatti eccomi qua con il resoconto delle giornate FAI con tutti i ragazzi che hanno partecipato Natale questo è Buon Natale Buon Natale da Isola del Gran Sassi con la Maretto di Saronlu e Oban da 15 euro 15 euro pagamichi auguri Buon Natale auguri Natale in rosso con l'EP federale ci sono e i kids anche ecco qua Kids on Bikes allora tu sei niente oggi finiamo l'anno con Diabolic in aperitivo e qua ci siamo riempiti di contagi veramente già ieri solo 15-20 persone ragazzi quindi noi sentiamo così finisce l'anno finisce il video ma noi ci vediamo poi a gennaio con il Capodanno e via dicendo Capodanno in piazza Capodanno Capodanno 2-8 2-8 Ciao